Perché ci arrampichiamo? Abbiamo un lavoro da fare. Non dovremmo stare qui. Chi è pronto a volare? Io, io, come un ciaveo. Melio, come un vampiro. È mezzo umano. Forse non è adatto a volare. Zitti, è così che imparano. Uno li lancia e loro si industriano. A me hanno insegnato così. Io voglio volare. Bravo, Pipis. Tu sai che il nonno resta qui se hai bisogno. Non voglio guardare. Ti prego, no. E allora, pronti? Via! Ancora non vola. Volerà. Ancora no. Ce la farà. È alta la torre. Per questo funziona. Devi accapparlo. Drac. L'ho fatto anch'io la prima volta. Sta arrivando troppo vicino a terra. Sapete una cosa? Non volerà. Ancora, ancora. Mancora! Grazie a tutti.